Bentrovati ad un nuovo video tutorial del corso di montaggio video con Adobe Premiere. Sono Fabio Ambrosi e quest'oggi la lezione è un po' particolare perché invece di andare avanti con un'altra tematica e un'altra lezione preferisco fermare un attimino il corso e rispondere a un po' di domande che qualcuno di voi mi ha fatto sul mio canale YouTube. A proposito, se guardando questo corso avete dei dubbi, avete domande, qualcosa non vi è chiaro scrivete pure sotto i video, chiedete pure quando mi sarà possibile se mi sarà possibile nel giro di poco tempo cercherò di rispondere a tutti. Visto che però le domande che mi sono state fatte in queste settimane possono essere interessanti un po' per tutti quanti e forse sono dei punti un pochettino poco chiari preferisco fermare tutto un attimino e rispondere pubblicamente con un bel video ai vostri dubbi. iniziamo con il primo di voi che mi ha fatto ben due domande che è Maurizio, Maurizio Bianchi e Maurizio mi domanda posso inserire diversi punti di attacco e stacco all'interno della stessa clip? ho provato ma va a cancellare quello attuale quando cerco di creare un secondo punto di in Maurizio come ti ho già anticipato la risposta è no se io inserisco un punto di in e inserisco poi un punto di out lo scopo di questa operazione è delimitare un pezzo di clip che io poi voglio prendere e portare dentro la mia timeline chiaramente non si possono inserire più in e più out perché se io vado a inserire un nuovo punto di in automaticamente modifico il punto che avevo inserito precedentemente probabilmente tutti domandi se è possibile inserire più marker ovvero segnare più punti di attacco e stacco all'interno della stessa clip in questa fase la risposta chiaramente è no nel senso che per poter visionare e scegliere a monte quali pezzi quali frammenti della clip originale si vuole lavorare si usano altre tecniche come per esempio i marker o le sub clip ma lo vedremo in un altro video per il momento sappi che in questa fase si possono scegliere un solo punto di in e un solo punto di out ok un'altra domanda che mi fa Maurizio Maurizio si domanda per quale motivo quando parlando della timeline abbiamo detto che le clip che stanno più in alto hanno priorità rispetto alle clip che stanno più in basso quindi abbiamo detto che la clip per esempio questa va a nascondere va a coprire la clip che sta subito sotto Maurizio si domanda credo di aver capito bene Maurizio se il fatto di portare la clip che in questo caso è sulla traccia v1 sotto la traccia v2 è la stessa cosa che se io per esempio facessi combaciare la fine della traccia v2 con l'inizio della traccia v1 diciamo che per una questione di ordine sarebbe saggio è saggio che tutto venga tenuto il più pulito possibile quindi ove possibile è chiaro che per una questione di ordine è intelligente tenere le clip ordinate in maniera tale che finisce una clip e ne inizia subito dopo un'altra però ai fini pratici se questa clip sulla traccia v1 va a finire sotto la traccia v2 non ci sono problemi e non ci sono criticità particolari se non per il rendering ma sono casi particolari che per adesso lasciamo perdere quindi rispondendo alla tua domanda puoi tranquillamente tenere o non tenere la clip inferiore sotto la clip superiore senza alcun problema andiamo avanti e rispondiamo ad Imma Imma ha la necessità di creare un dvd da distribuire ad altre persone e si domanda io il file per il dvd come devo lavorarlo in progressivo o in interlacciato la domanda di Imma è molto legittima perché io all'inizio di questo corso vi ho detto che se lavorate per il web dovete lavorare in progressivo se lavorate per la televisione dovete lavorare interlacciato chiaramente il dvd va a finire sulla televisione casalinga e quindi il dubbio ad Imma è venuto devo lavorare in progressivo o in interlacciato bene fino a tanti anni fa quando avevamo le televisioni a tubo catodico gli scatoloni grandi 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 sulle nostre mensole ecco in quel caso quegli oggetti pretendevano video interlacciati oggi con l'avvento delle smart tv e delle tv a schermo piatto non c'è più la necessità così tassativa di creare video interlacciati se dovete fare un dvd potete tranquillamente lavorare in progressivo anzi è buona norma lavorare il più possibile in progressivo e solo in casi particolari esportare un video a scansione interlacciata diciamo che l'interlacciamento è richiesto ancora se dovete produrre dei video per esempio per sky o per realtà che hanno la necessità di distribuire il vostro lavoro sul digitale terrestre per motivi che adesso non approfondiamo di banda e di trasmissione del segnale ecco in quei casi si preferisce almeno fino a un poco tempo fa un video interlacciato nella stragrande maggioranza dei casi specie se lavorate in ambito amatoriale domestico lavorate serenamente in progressivo anche perché i vostri cellulari così come le telecamere amatoriali spesso e volentieri lavorano in questo modo con la scansione progressiva quindi se dovete creare un dvd non fatevi troppi problemi lavorate tranquillamente con la scansione progressiva per rispondere ancora a dimma se voi avete l'esigenza di vedere il vostro lavoro sul dvd di casa e quindi volete distribuire ad amici e parenti il video che avete realizzato su un supporto dvd quello che potete fare è esportare un file mp4 con codec h264 lo vedremo meglio nelle prossime lezioni ad ogni modo anticipo qualcosina selezionate la timeline che volete esportare premete sulla tastiera la combinazione di tasti ctrl m viene aperto questo che è il modulo di export scegliete tra il formato l'h264 tra i predefiniti scegliete il predefinito che più si avvicina al video che avete creato quindi se avete lavorato in hd scegliete serenamente i quality 1080p hd come potete vedere viene creato un video 1920x1080 25 fotogrammi per secondo a scansione progressiva date un nome al video che volete esportare cliccando sopra a nome output cambiate tranquillamente il nome e decidete dove volete esportare il vostro video e successivamente cliccate sul bottone export una volta che avete creato il file mp4 con codec h264 potete masterizzare quel file dentro a un supporto dvd e potete stare certi che il vostro lettore di casa se avete fatto tutto bene se avete creato un h264 nella stragrande maggioranza dei casi riprodurrà senza alcun problema il video che avete messo sul vostro dvd ma non vi preoccupate perché lo vedremo meglio nel dettaglio nelle lezioni che riguarderanno l'export per il momento vi ringrazio se avete altri dubbi scrivetemi venite su www.fabioambrosi.it cliccate su contatti c'è il modulo per chiedere informazioni se potrò in breve tempo vi risponderò iscrivetevi anche al mio canale youtube così da non perdere i prossimi video che sono in cantiere e perché no cercatemi su facebook la pagina è Fabio Ambrosi e mettete un like alla pagina e teniamoci in contatto al prossimo video grazie ancora